Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati su Destiny con Giral Equip Oggi giocheremo con il piano C e il lanciarazzi preso dall'armaiolo Ma prima di iniziare vorrei avvertirvi che non sto portando più Destiny Perché non trovo più nulla da fare e l'esperimento con i like non ha funzionato Perché quando vi avvertivo che volevo un certo numero di like arrivavano Ma se non ne ricordavo una volta e c'era il numero di like nel titolo non veniva più fatto Quindi non vengo più invogliato a fare Destiny Ho tanti altri giochi e per giunta sto ricominciando a lavorare E il tempo non c'è quindi preferisco portare altri giochi Mi spiace per quelli che seguono solo Destiny ma è così la vita Intanto incominciamo la partita È già incominciata, porca vacca Ed è anche già finita, yeah Aspettate allora So che va contro le regole ma chi se ne frega voglio usarla A parte che ci sono le pesanti tranquillamente Usiamo il grande ranciarazzi che mi son messo Comprato dall'armaiolo No voglio le verdi non me ne frega Piuttosto muoio ma voglio le verdi Non ammazza neanche in un colpo Mi son messo a ricaricargli in faccia Ma ancora non finisce Sono 15.000-5.000 raga Nooo non avevo vita Quanto l'odore So che non è l'arma che dovrei utilizzare Salve No io non la cago proprio L'adoro È la mia preferita Grazie per averla portata Anno 2 Anche se si chiama in modo diverso Mi lascio un accontentino Ho fatto anche un ratto di uno Non scherziamo Vediamo qua Ah no non droppa 3 3,7 L'ha droppato Sì invece Peccato che ce l'ho È l'unica cosa che ho alto Vi ricordo ragazzi di lasciare i like Se volete Più video bonus Di Destiny Ora come ora sto andando a ritroso Perché avevo alcuni vecchi video Ma vedo che non riuscite più a raggiungere Il numero di mi piace Che vi richiedo Non ve li richiedo ogni volta a voce Ma lo metto nel titolo Quindi è importante che lo guardiate Perché se E se non ricevo i mi piace Io smetto di far video Di Destiny Perché Non perché non mi piace Ma semplicemente Ho tanti altri giochi Che mi piacciono Anche quelli Non so con quale grazia divina Io sia sopravvissuto No ma attaccato da sinistra Mi mancava un colpettino Kai assist Questo pensavo che fosse sopra E da distanza però Così è troppo Ciao bello Grazie per esserti avvicinato No Non posso averli fatto così poco Perché Scusa Gliel'ho attaccata Ui Lo stavo mancando Quel mielino è un po' troppo ampio Per i miei gusti Nooo Ah era lì sopra La zona B è neutrale Oh l'ho mazzato Ciao Nooo Signore i lupi Ma quanto veloce spara Ho una super Buono Non penso che riuscirà Mai a ammazzarlo Però Mamma mia No 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 Mi attacca un altro Eeeh Vabbè Perché io quando uso la freccia Non c'è mai nessuno A sfruttarla Invece lì erano in tre Lo so Eh Le pesanti Le pesanti Io andrei tutti a sinistra Se possiamo Sembra che nessuno ci vada invece E le prendo Non me ne fotte Le ho prese Quella l'ho rubata Palesemente Davvero non uccideva Da qua così vicino Cazzo Ha un buono sparo Di ritorno Ma Sono morto Sono morto Neanche di super Che piccione La distruzione È molto più potente Di così Come lo stavi utilizzando Prima No Mi devo impedire Di andare Non per i coglioni Aspettate Eh vabbè Sti fucile a pompa Ok Dai dai Prendiamo B Prendiamo B Vi ho difeso Dobbiamo prenderla Per forza Bella Aia Ma 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 Quel signore I lupi Ha Rotto il cazzo Ma poi spara Veloce Guardalo Ma C'è camminato Sopra Come Come non l'ho preso No 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 L'ho preso di striscio E tu con quel cecchino Ma dai Dai ragazzi Veramente Ma che squadra c'ho Ma siete tutti Indicappati Ma uccidetelo Sposito di super Devo usarla Anche se male La devo usare Dai venite Venite Ci penso io Cazzo Hai rotto il coglioni Non è morto? Ma gliel'ho attaccata Dai Figa che palla Che sete Quando gliel'attacco Che non muoiono Dai dai Manca pochissimo Vinciamo Sì No Sì 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 Ho detto no Perché ero primo Volevo per una volta Arrivare primo Dai In realtà L'uscita smutatore Io l'ho anche provato All'inizio Ma Non mi piaceva Oddio Ma ho appena dato I gammali esotici Vero? Eh niente Usiamo Queste qui blu Usiamo Queste qui blu Quali lì Me le terrò Io Non li considero Volete darmi un'arma primaria Vi prego Vi prego Vi prego Io sto pregando Perché vi dia Un'arma primaria Non so neanche Quanti partite Sto portando avanti Quest'armetta Del cazzo Non è che mi dà Anche più Più agilità Questo Non volevo Consumare il colpo Però A quanto pare Ragazzi Vorreste venire Ad aiutarmi Grazie No Cioè Dobbiamo conquistare Ragazzi Sembra che Non ne avevamo voglia Siamo qui Na Volete conquistare Dai Siamo sempre in tre Cazzo Prendetela No Mi ha preso al volo Mi ha preso al volo Uh Di già Ehi Ciao Ehi Quanti siete Questi continuano A far super Quella Quarta freccia Che ho visto Oggi Qui invece Sono in due Sono in tre In realtà Io come cazzo Faccio E' arrivata La super Aveva un fucile A pompa Da qualche Ho visto Se non mi ricordo male Era il tipo Col vituperio E secondo voi Io sono così Idiota Sì Perché stavo Sentando di usare La granata Da dove Ma dai Sono sempre in due Fortunatamente Le pesanti Adesso Spawnano Solo una volta Grazie al cielo Proprio Vedete Mancava un'altra Super Io la faccio Bravi Ottimo gioco Di squadra Oh Andiamo in Ma quante fregge C'è Il problema Che le frecce E' perfetta Per fare sfere E luce Quindi questi qui Continuano a farsi sfere 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 E vincolo Mi hanno colpito due volte La testa Dai cazzo Ho dovuto farlo fare io No mi spiega Quello lì Con la dottrina Dove mi stavo colpendo Un altro sub Oh Oh Bestia Anche mancato Com'è che Non lo colpisce Vabbè Io Dimmi Arma primaria Arma primaria Arma primaria Mi sto Prendendo Per il culo Dammi Un'arma primaria Vabbè Questa è la fine Del Settima Puntata Me la sono Già scordata Mi gira l'equip Io Vi saluto Alla prossima Avremo i guanti Vado a spacchettarmi Questa Sperando che siano Oltre 20 E Ciao a tutti ragazzi Ricordate I mi piace Vado a spacchettarmi Vado a spacchettarmi Vado a spacchettarmi Vado a spacchettarmi